Rosario Crocetta è il candidato ufficiale anche del PD. A sangire l'appoggio elettorale del Partito Democratico all'euro parlamentare ed ex sindaco di Gela è stata l'assemblea della direzione generale del partito riunitasi a Palermo. La proposta di candidatura di Crocetta avanzata dal segretario regionale Giuseppe Lupo è stata accolta quasi ad unanimità dal direttivo regionale che ha espresso un solo voto contrario. Con Rosario Crocetta, presidente, ha dichiarato il segretario del PD Lupo, vinceremo le elezioni regionali e cambieremo la Sicilia. La nostra coalizione con l'Udc, i socialisti e le altre forze politiche che la compongono, ha continuato Lupo, è fondato su una forte convergenza programmatica sui temi dello sviluppo produttivo, del lavoro, della legalità e della tutela per l'ambiente. Le porte della nostra coalizione, ha concluso il segretario regionale del PD, saranno aperte a tutti i partiti del centro-sinistra ai quali rivolgiamo un appello all'unità.